State ancora pianificando le vacanze? Siete indecisi se andare a Ostia, Milano Marittima o in Salento? Qualora abbiate bisogno di spunti per trascorrere al meglio qualche giorno di relax, vi consigliamo di seguire gli account Instagram Rich Kids London e Rich Kids UK rispettivamente con 430.000 followers e 235.000. Scorrendo le immagini potete avere una dettagliatissima panoramica delle attività assolutamente extra-lusso che si concedono alcuni dei ragazzi piaggiati del Regno Unito, che ovviamente non si fanno scrupoli nell'ostentare il loro alto tenore di vita suscitando invidia tra i coetanei. Si va dai bagni in piscina con gli squali, ai giri privati in elicotteri, Lamborghini tempestate d'oro e bottiglie di pregiatissimo magnum stappate per sostituire l'acqua. E ancora vediamo i Rich Kids che degustano un pranzo gourmet a bordo del loro jet privato, orologi preziosissimi sfoggiati con nonchalance oppure set di valigie strapiene di Yves all'oram per un weekend di bisbocce fuori. E come se non bastasse, c'è chi passeggia per le strade di Dubai tenendo al guinzaglio un piccolo di tigre. Insomma, di idee su come divertirvi? Come se non ci fosse un domani, ve ne abbiamo date. Vi suggeriamo anche di dare uno sguardo all'account Rich Kids of Italy, anche i nostri connazionali in effetti non sono da meno rispetto agli inglesi.